Ma è una settimana molto importante, bisogna cercare di chiudere nel migliore dei modi facendo una prestazione importante contro un avversario forte. Domani sarà importante non pensare a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Sulla Vispese lo dico che è una squadra che ha quasi sempre giocato il 3-5-2, una squadra molto offensiva perché soprattutto con i quinti è molto aggressiva e anche strutturata. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, sarà quella che magari sia perché è la terza partita in una settimana, sia perché giocando in casa noi dobbiamo fare la partita e cercare di portare a casa tre punti, dall'altra parte troveremo una squadra che se la giocherà a viso aperto. Sì, non stiamo lavorando tanto su questo, tanto dal punto di vista difensivo perché nelle prime giornate abbiamo sofferto qualcosina e la squadra deve essere brava a cambiare atteggiamento nei momenti che bisogna soffrire, bisogna, come ha fatto nelle altre partite, quindi sarà difficile affrontarla. Noi dobbiamo essere molto bravi in questo e dobbiamo farlo a partire dagli attaccanti, al di là del sistema di gioco. Poi la squadra, ripeto, lo sta facendo, noi dobbiamo continuare su questo. Sono convinto che continuando a lavorare così questi ragazzi possono veramente fare un qualcosa di importante perché quando c'è questo spirito le qualità tecniche sicuramente arriveranno. Abbiamo fuori Burrai, secondo me Moscati ha caratteristiche diverse però in questo momento quelle caratteristiche ti danno un po' più di solidità. Le mezzali, al di là di chi gioca, stanno facendo a mio avviso molto molto bene, sia in fase di copertura sia in fase avanzata. Noi purtroppo abbiamo perso anche Guanna e ci manca, però noi quelli che stanno giocando sia Dragomir, Falzerano, Sunas stanno giocando e stanno facendo a mio avviso bene. In quel reparto ho l'imbarazzo della scelta, quindi valuterò partita dopo partita. Grazie.